Abbiamo vinto oggi 3-2, penso una partita tosta, sapevamo che non sarebbe stata facile qui a Sora perché loro comunque giocano una buona palavolo soprattutto qui in casa. In più noi penso non siamo nel nostro miglior momento rispetto anche a come stavamo giocando all'andata e questo ha portato fuori una partita molto lottata, comunque penso che per noi siano due punti molto importanti per rimanere attaccati al treno dei play-off, però penso che qui faranno fatica in tante quindi insomma siamo contenti per questi due punti.